La lotta per liberare l'Italia dalle armi nucleari ha mosse i suoi primi passi nella nobile terra di Dante. Un grande inizio per lo sviluppo della pace in Italia e nel mondo. È stata approvata ieri, mercoledì 26 ottobre, al Consiglio regionale della Toscana una mozione del gruppo Si Toscana Sinistra, che impegna la Giunta a chiedere al Governo di rispettare il trattato di non proliferazione delle armi nucleari e a far sì che gli Stati Uniti d'America rimuovano immediatamente qualsiasi arma nucleare dal territorio italiano e rinunciano a installarvi le nuove bombe B61-12 e qualsiasi altra arma nucleare. La deliberazione del Consiglio regionale toscano accoglie così un documento promosso dal Comitato No Guerra Non Nato. Le bombe B61-12 dalla potenza media pari a quella di quattro bombe di Hiroshima stanno per arrivare in Italia. Lo conferma da Washington con prove documentate e la Federazione degli Scienziati Americani. Una foto satellitare mostra che è stato effettuato l'upgrade della base della US Air Force ad Aviano e di quella di Gedi Torre. Secondo le ultime stime della FAS, gli Stati Uniti mantengono oggi 70 bombe nucleari B61 in Italia, 50 ad Aviano e 20 a Gedi. 50 in Turchia, 20 in Germania, Belgio e Olanda. Ma nessuno sa con esattezza quante esse siano. Ma si sa però che abbassano la soglia nucleare, rendendo più probabile il lancio di un attacco nucleare dal nostro paese ed esponendolo a una rappresaglia nucleare. All'uso di tali armi nucleari vengono destrati i piloti italiani nonostante l'Italia abbia ratificato il trattato di non proliferazione che la impegna a non ricevere da chi che sia armi nucleari nel controllo su tali armi, direttamente o indirettamente. Stanno inoltre per arrivare alla base di Amendola in Puglia, probabilmente l'8 novembre, i primi due dei 90 caccia F-35 che l'Italia si è impegnata ad acquistare dagli Stati Uniti. Il costo della partecipazione dell'Italia al programma F-35 è di 12 miliardi e 356 milioni di euro di denaro pubblico. Nonostante ciò, l'Italia avrà una sovranità limitata sugli stessi F-35 della propria aeronautica. Una legge statunitense vieta infatti che i dati di missione, i software di gestione dei sistemi di combattimento dei caccia siano comunicati ad altri. Saranno dunque gli Stati Uniti d'America e non l'Italia a controllare gli F-35 italiani, predisposti per l'uso delle nuove bombe nucleari B-61-12 che il Pentagono schiererà sul nostro territorio nazionale. Offensiva su tutti i fronti. Parallelamente al dislocamento di truppe, anche italiane, nei paesi baltici e in Polonia, la NATO rafforzerà la propria presenza nel Mar Nero. Stati Uniti, Turchia, Germania, Canada, Olanda e Polonia, sono pronti a inviare nella regione truppe, aerei e navi da guerra. Al vertice di Bruxelles del 26 e 27 ottobre, Jens Stoltenberg ha espresso preoccupazione per la recente attività militare della Russia vicino ai confini della NATO, dove recente attività militare sta per esercitazione caucaso 2016 e vicino ai confini della NATO per in Russia. L'incontro di Bruxelles si svolge sullo sfondo dell'ingresso nel Mar Nero del caccia torpediniere americano Carney, dotato di sistema IGIS, uno degli elementi dello scudo missilistico europeo. Nel frattempo, in Russia sono state pubblicate le prime foto del nuovo missile balistico intercontinentale RS-28 Sarmat, ribattezzato dalla NATO Satana 2. Sebbene le caratteristiche della nuova arma non siano ancora state rivelate, i mass media occidentali sanno già che il missile russo può incenerire il Texas o la Francia e che è in grado di superare indenne la difesa antimissile dello scudo europeo. Lo hanno capito guardando una foto. Mentre Bashar al-Assad proroga per altri tre mesi l'amnistia per i militanti che decidono di arrendersi ed apporre le armi, l'Unione Europea continua nella politica delle sanzioni e aggiunge alla lista nera altri dieci esponenti legati al governo siriano. Intanto, Mosca prosegue gli sforzi diplomatici. I ministri degli esseri di Russia, Siria e Iran si incontreranno per una riunione a tre domani nella capitale russa. La discussione verterà sulla lotta senza compromessi contro il terrorismo, ai fini di far cessare le ostilità e le sofferenze dei civili, risolvere i problemi umanitari e avviare un processo politico sulla base del diritto internazionale. I successi dell'intervento militare dell'aviazione russa in Siria sono oramai sotto gli occhi di tutti coloro che abbiano la volontà di ben inosservare. Il mercato di petrolio dello Stato islamico ha subito una flessione del 70%. Dai dati riportati dall'alto inviato del segretario generale delle Nazioni Unite per la Siria, Stefano Emissura, più di 300 impianti coinvolti nella produzione illegale nel trasporto di petrolio sono stati distrutti dalle forze aeree russe. Con i terroristi tolleranza zero. L'India apprezza la posizione decisa della Russia nella lotta al terrorismo nell'Asia occidentale. Lo ha affermato il ministro della difesa indiano Manohar Parrikar all'incontro di mercoledì della Commissione intergovernativa indorussa per la cooperazione tecnico-militare. Mosca e Nuova Delhi sono concordi nell'affermare che per vincere il terrorismo è necessaria una strategia precisa e senza doppi fini. Nel corso dell'incontro le parti hanno deciso di rafforzare la collaborazione nel settore tecnico-militare. Il quotidiano Isbestia ha annunciato che il ministero della difesa russo ha preparato una specifica rete internet militare, completamente disconnessa dal World Wide Web, al fine di proteggere la trasmissione di dati da possibili attacchi hacker. L'accesso a questa rete internet, secondo il quotidiano russo, può avvenire solo da computer autorizzati che utilizzano uno speciale sistema operativo appositamente progettato dalle forze armate russe. Secondo gli analisti, la sicurezza delle comunicazioni, soprattutto in ambito militare, è un elemento strategico della sicurezza di uno stato moderno. Mettere al sicuro il flusso dei dati da possibili attacchi tendenti a rubare informazioni classificate o addirittura tendenti a paralizzare funzioni fondamentali, è da considerarsi come un obiettivo strategico. Tanto è vero che sia gli Stati Uniti d'America che la Russia investono miliardi di dollari ogni anno in questo particolare settore. L'agenzia di stampa Reuters, citando fonti anonime, ha riferito che il cacciatorpediniere lanciamissili Decatur della Marina statunitense, che ha navigato nei pressi delle isole Xiscia la scorsa settimana, è stato inviato e comandato dalla terza flotta a distanza a San Diego. Era dai tempi della Seconda Guerra Mondiale che la terza flotta, responsabile della regione del Pacifico Orientale e del Nord del Pacifico, non navigava verso le acque costiere della Cina. Sembra quindi questo un chiaro segnale che gli Stati Uniti d'America sono determinati ad aumentare il dispiegamento militare nel Pacifico Occidentale, per dimostrare la superiorità militare sulla Cina. Il secolo XXI sarà americano, ha tuonato Barack Obama, ma la Cina non sarà certo guardare. Chiediamo con forza che gli Stati Uniti d'America rispettino la sovranità della Cina e la sua sicurezza nazionale senza ripetere errori, ha dichiarato Pechino, che ha anche annunciato l'aumento delle pattuglie aeree e marittime per rafforzare la propria capacità di difesa. Non paga di leggi che garantiscono la democrazia al punto di prevedere un referendum popolare che può revocare le cariche istituzionali prima della fine del mandato, l'opposizione venezuelana ha mobilitato centinaia di migliaia di persone contro il presidente Nicolás Maduro a Caracas e in altre città del paese. Un agente della polizia è morto e altri due sono rimasti feriti mentre tentavano di dissolvere una manifestazione. E la tensione potrebbe ancora montare con l'appello allo sciopero generale di 12 ore venerdì prossimo, un appello a cui l'esercito ha risposto minacciando di occupare le aziende che si uniranno alla mobilitazione. L'opposizione ha inoltre deciso che non parteciperà al dialogo politico con il governo annunciato dal Vaticano e ha convocato una marcia di protesta il 3 novembre prossimo verso il palazzo presidenziale. Grazie a tutti.